I viaggiatori scendono velocemente per raggiungere parenti, amici, tassisti, metropolitani. L'UMI si rifugia sotto il tabellone delle partenze degli animi. Deve decidere dove andare. Non sa dove sia la montagna. Di certo più a nord. Ma nord dove? I viaggiatori sa come scendono dalle scale mondie. Lui segue la nuca di un giovane che parla la sua lingua, ma lo fa soltanto per avere un frammento. Qualcosa da cui ripartire. La bigliette di automatica è vuota. Lui inserisce la parola montagna alla voce stazione di arrivo. Non sa cosa sceglie. Poi attende in fila la biglietteria centrale. Chiede al ferroviere un biglietto per un posto di montagna. Il ferroviere in grado domanda Quale montagna? E lui ripete Una montagna. Non importa quale. Basta che sia una montagna. una montagna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.